A due settimane dal voto per le elezioni europee ci sono importanti cambiamenti. A due settimane dal voto per le elezioni europee. L'unica formazione che vede un aumento dei propri consensi è il Movimento 5 Stelle. Il più penalizzato dal risultato delle elezioni europee. Anche perché si tratta di una forza sciale punte del proprio consenso concentrate nel sud del nostro paese. Area che ha visto una partecipazione drammaticamente bassa, ha votato il 43,7% degli aventi diritto nell'Italia meridionale e un misero 37,8% nelle isole. Infatti il partito della premier Giorgia Meloni, FDI passa dal 28,8% al 28,1%, il partito democratico guidato da Elie Schlein dal 24,1% al 22,8%. Mentre il M5S di Giuseppe Conte sale dal 10 al 12,5% e AVS di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli scende di mezzo punto. Passando così dal 6,7% al 6,2%. Le valutazioni del governo vedono una piccola crescita. L'indice di gradimento calcolato come sempre escludendo coloro che non si esprimono passa dal 43 di maggio all'attuale 44, e lo stesso avviene per le valutazioni rispetto alla Presidente del Consiglio. Con un indice che passa dal 44 di allora all'attuale 45. Insomma, conclude il sondaggista. Gli italiani sembrano confermare quel bipolarismo tenue che abbiamo visto emergere dal voto europeo. I due partiti principali, PD e FDI, hanno poco più della metadei voti validi. Da un lato, dall'altro si mantiene il netto primato della formazione di Giorgia Meloni nel centro-destra. Ma sembra più solida la preminenza del PD nell'opposizione. Grazie. 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 Grazie.